Sgradevolissima, perché la sensazione che provo di un forte senso di responsabilizzazione, come se il problema non ringuardasse i siciliani, la Sicilia, i dirigenti siciliani. È una regione che fa la furba, mettiamola in questi termini, pur avendo un potenziale meraviglioso, ma che dimostra politicamente di essere veramente piccola. Piccola, anche maleducata nei confronti del resto del paese. Loro hanno il 40% dei dirigenti regionali italiani, hanno il doppio dei dipendenti della mia regione, che è la regione Lombardia, e noi siamo il doppio però dei siciliani e non abbiamo l'autonomia. Sono numeri questi che gridano vendetta, che richiedono, posso dire una battuta, questa regione andrebbe commissariata. Però, però, però... Adesso arriviamo, però... No, solo distinguiamo...